E' insoddisfacente il risultato emerso dalla Commissione Vigilanza della Regione Abruzzo nella quale si è discussa la spinosa questione dei nuclei di cura primaria della ASL1, nel corso della quale sono stati ascoltati i vertici dell'ASL con il delegato di Romano Alfonso Mascitelli, l'assessore Nicoletta Verì in videocollegamento e Vito Albano della Federazione Italiana dei Medici di Base insieme alla CGL. La ASL continua con le sue posizioni, il nostro sta diventando purtroppo un dialogo fra sordi. Questa era l'ultima occasione che avevamo per cercare di arrivare a un accordo. Spero che la Commissione di Vigilanza possa fare ulteriori passi in futuro, ma è chiaro che a questo punto l'unica cosa che ci rimane è procedere per vie legali. Ci siamo già mossi in questo senso, per cui questa era l'ultima occasione di evitare e andremo a questo punto a vie legali che, se dovessimo vincere, sarà un'ulteriore spesa per l'ASL, perché in questo caso dovranno pagare pure gli arretrati precedenti per non aver ottemperato alle richieste fatte, mentre invece così avremmo evitato una cosa del genere. Mi dispiace perché è una sconfitta per noi, è una sconfitta per l'ASL, è una sconfitta per i cittadini. Si sarebbe potuta evitare. Vediamo adesso quello che succederà nel futuro, ma alla soglia anche stiamo facendo già le trattative regionali, quindi chiudere il progresso sarebbe stata la cosa migliore. Parliamo nella sostanza di un diritto, quello alla salute, che ad oggi purtroppo è stato ridotto al 50% per tutti quei cittadini del comprensorio aquilano che fanno riferimento ai nuclei di cure primarie. Una riduzione del 50% dovuta alla riduzione del 50% dei medici che partecipano al nucleo di cure primarie e che dal 2022 non sono stati più sostituiti da parte dell'ASL 1. Un atteggiamento questo che è stato più volte e a più riprese denunciato non soltanto dai sindacati, dai diretti interessati, ma che abbiamo portato più volte anche all'interno del Consiglio regionale. La realtà è che il centrodestra, soprattutto su una tematica come questa e così delegata, continua a giocare al gioco delle tre carte. Non si assume una responsabilità e soprattutto non dà una spiegazione del come una ASL, che ha sempre e comunque sostenuto un costo per mantenere in piedi i nuclei di cure primarie, ad oggi arrivi a sostenere di non avere i fondi, quando i fondi ci sono sempre stati fino al 2022 e ci sono ancora oggi.